Ehm, ciao! Oggi Among Us ma un po' particolare perchè dovevo essere un Among Us con un altro tema ma è diventato un scappa da Marci che ti vuole uccidere perchè è un hacker e quindi niente, in questo video vedrete un pochettino di partite in cui Marci prova in tutti i modi a farmi uscire e alla fine io mi vendicherò cioè in realtà vedrete cosa succederà alla fine buona visione. Vediamo un po' niente Marci prima di iniziare ha detto secondo me questo partito saranno baddi e unico punto. Ehm no, non è così invece, però potrebbe essere baddi magari ci ha preso Marci, che ne sapete? No, le luci no, però per favore le luci non le voglio fare dov'è che sia? Ho qualcuno, bisogna stare vicino a qualcuno Ti prego dimmi che non sei tu un impostore, ho scelto una persona a caso voglio che tu sia amichevole con me, ti prego qualcuno deve riattaccare le luci Ok, ciao, guarda, ciao, siamo amici? Siamo amichevoli, no? No, no Buonasera a tutti. No, sono Martina non sono Martina Rov davvero. Lì non c'è nessuna quest sta volesemente fegando. Dai raga ma lì non c'è nessuna quest ma io non ci posso credere. Sono confuso sono molto confuso, se devo essere onesto vabbè, andiamo a fare le quest, va non chiamo l'emergenza così lo dico dopo, al limite. Ma sai che non muoio no, non ci vado di là invece, non ce l'ho ripensato Cavolo, non sto facendo niente, se c'è un nient'ondo ok, andiamo qua. Basta, deciso. Ufficiale, vado di qua vado di qua, c'è sbatti che è vivo qui facciamo le folie oh yes, oh yes perfetto ok ragazzi, uno è loco nooo, guarda voleva pure fare l'emergency meeting fai schifo ho fatto l'emergenza perché c'è un cazzo di neve sei entrato tu in elettrica sei entrato tu in elettrica e c'era il cadavere fai schifo fai schifo fai io l'ho visto il Mad Bay fa niente mazzalo mazzalo ma hai visto me il Mad Bay, Teo è un altro io all'inizio ho detto sono Nico e loco se uno è loco no, no, non sono io no, hai detto Nico e Buddy hai detto no, no, poi hai detto secondo me, no, invece sono Nico e loco io vi dico una cosa Nico ha detto se sono io uccido loco però loco è l'impostore no, no, no non sono io lo posso assicurare vabbè non ho fatto manco una kill però vabbè vai ragionati a marci no, no, no non ho fatto Nico va bene ciao Nico no, no, no vabbè, ciao cioè, scusa vabbè, io non vuol vabbè, raga io 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 pensavo fosse Rob ma raga, ma qua c'è una quest scusate perché Rob è stato fermo qua davanti qua davanti non c'è nessuna quest ma che cavolo no, sono un pochetto confuso lo sapevo io no, no, io voto Nico no, no, non sono io davvero, davvero no io ho venduto quella di quella volta e ne ho tirato il video è niente non ti coprirò mai più vai, vai non ti coprirò mai più vai, vai io ho votato anche io ho votato che siamo vabbè, Nico ma è andata non sono io mi avrai sulla coscienza ma dalle immagini che tra poco buttavano fuori a me questi ma guarda Teo va bene, va bene Marci però a parte io e io bravo, bravo sei tortissimo allora Marci adesso le prenderà adesso se se Marci ci sfogheremo conto di lui perché ha di nuovo detto che secondo lui siamo io e Rob cioè io adesso sono fisso sempre e quindi ora mi accuserà ma io lo vedrò a far qualcosa di Marci ha ventato Marci ha ventato io mi astengo dal votare perché sono lo stando io votatemi no, Marci ha ventato ha detto seria io sono serissimo anche lui non ho capito niente vabbè io mi astengo dal votare ma perché XO? ma a me la votate Martina a quel punto no? cosa vuoi della mia vita? io non mi dichiaro non so mamma mia Marci guarda tu sei finito ma Marci è proprio fissato eh cioè io l'ho chiamato per dire che Marci ha ventato e è andato a fare XO io non ho parole io non ho parole io non ho parole adesso adesso seguo Marci e qualsiasi cosa fa l'openino l'openino dove? faccio loco Marci ha ventato è un video con Nico non è entrato in Mad Bay ma io non ci sono mai stato in Mad Bay a maggior ragione ti voterei allora è l'admin ma io non ti ho votato ho votato Rob dai è bene è bene è bene è bene ragazzi non sono mai impostore ma non posso neanche riportare i cadaveri cioè va bene va bene mi buttano fuori a caso sì sì no è giusto io devo riuscire a buttare fuori Marci devo lo butto lo voglio buttare fuori basta in qualsiasi modo cioè non è possibile che lui mi veda e gli ma che cavolo devo fare il memory non ci posso credere no il memory non lo voglio fare chi è che c'è qua c'è un morto ah aiuto vabbè già si sa chi è palese ovviamente ma chi è stato quindi Bruce e va bene ciao Buddy ma perché no Marci io non gli devo credere a Marci Buddy non ti ho votato sappi l'ho votato Marci non devi lanciarvi da un ponte grazie stavo appresso il tuo voto effettivamente oh no e vabbè è una partita particolare non abbiamo capito neanche le regole non so neanche se la vedrete mai questa partita è molto confuso sono sono molto confuso davvero che ci fa qua Marci perché era fermo se è attivata l'emergenza dai ti seguo Marci così mi uccidi e sei felice dai uccidimi su sto aspettando eh sto aspettando che tu mi uccidi e che è non era scontato che fosse Marci e che è non ho detto vabbè io infatti io non ci conto neanche più raga ma sì ma poco importa ma sì tanto il mio ruolo in Among Us è morire ormai si sa che io nasco cammino muoio così non posso uccidere non sono mai un postore non sono mai niente però nasco e muoio quello lo sanno tutti buonasera non c'è nessuno molto bene oh un buddy un buddy selvatico che veniva dalla caffetteria un mordo no dai che è? che succede? che succede? Bugo? raga ho visto una persona prendere la ventola chi? la ventola io ma come io? raga la cosa più strana è che non sento Marci dire ho visto Nico prendere la ventola la navigation marci io ho votato Marci non risponde pure io pronto? ma si che si sente raga pronto? io l'ho votato pronto po' è Nico non sono io mamma mia loco guarda io vi volevo dire solo una cosa che stavo salendo di lì ma a shield ha visto Bruce che andava su che poi ha trovato il cadavere quindi basta Bruce Nico ha preso la ventola no Marci è Nico che ha preso la ventola ma che c'è lo che si sente? vabbè succede succede nel senso è bello divertente ce l'ho fatta mi sono vindicato su Marci in realtà cioè non volendo perché non era una cosa voluta però nel senso è male non è male questo video boh sono Nico e Marci che si accusano a caso a vicenda e ogni tanto ci prendono mai spoiler devo fare le foglie qualcuno faccio la luce vi prego l'ho fatta ok si l'ho fatta navigation navigation dov'è che è? loco è morto no ho trovato il cadavere di loco ma scusate è vivo e sono rinato è stato unico vai a Marci dai se non voti Nico te lo giuro buddy è finita ma questa è la dittatura ma io mi distraggio completat no che cosa roba raga io vi giuro non lo so questo doveva essere un video di Among Us è diventato non lo so non so neanche io che cos'è di preciso margerinato mi accusa mi vuole buttare fuori che noia roba siamo tutti qua manca ma loco è morto perché loco mi accusava voleva coprire Marci interessante no no va bene va bene interessante eh insomma è una bella giornata non è vero ma guardi era vivo davanti a me ma guardi era vivo era davanti a me vivo è stato Nico punto ma basta raga io sono vivo ma che sei vivo sei morto io posso io adesso voto Marci voto Nico voto Nico no dai non sono vivo davanti a me no dai si raga c'è un voto in più sono ancora vivo noi non accettiamo i morti in questa nave qui lo tanto sono sempre vivo eri l'impostore ma un'altra volta ciao sono vivo ragazzi mi vedete vero si ciao vadi si sei qua vieni vadi andiamo ma dove sei Nico ma sono davanti a tempini ok ah per questo ho bannato no no mi devi uccidere oh no io sto aspettando che scada qui e mi uccida ma secondo te chi è Rob vieni fallo ti prego ma scusa provo ad uccidermi per favore non posso senti non puoi ehi ma non posso no raga Marci ha bluescreennato Marci ha bluescreennato che è andata in silenzio non ho capito Marci hai vinto Marci ha fatto bluescreen come ha fatto bluescreen pensavo fosse stato bannato Marci grande vittoria bravo non ho capito no ho capito Grazie a tutti.